il prossimo collegamento che è da palinzesto e prevede una conversazione di Salvatore Autonacci con David Mazzarelli che è il portavoce del T-Party Italia. Salvatore dovrebbe essere già collegato con noi, vediamo se risponde, se ci sento bene. Eccoci, pronti? Sì, ti sentiamo bene Salvatore, perfetto. Adesso favoriamo anche l'inquadratura. Allora dovresti rimandarci l'immagine Salvatore perché quando andiamo in 3D scompare la webcam. Tanto ho invitato anche David. Ci siamo con l'immagine? Sta arrivando. Non so se David mi sente. Sì, ti sento. Oh, perfetto. Ciao David, un piacere conoscerti. Ho avuto modo di vederti anche in televisione, recentemente ospite, non ricordo come si chiama il conduttore di lettere, comunque ho avuto modo di apprezzare le tue idee. Ecco, comunque non voglio fare l'intuso in questa conversazione e ti lascio nelle mani di Salvatore Antonacci che dovrebbe... Davide non ci arriva la tua webcam però. Eh, ora proviamo, aspetta. Provo a chiamare io direttamente Salvatore, forse è meglio. No, 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 perché per una questione di energia dobbiamo passare da qui perché lo streaming lo facciamo da Lecce. Quindi devi... Dovresti mandarmi il video? Eh, non so come fare. Eh, avvia video dovrebbe esserci scritto. Oppure sennò ti richiamo e tu fai i rispondi con video, va bene? Proviamo così. Ok. Ah, non hai l'ultima versione di Skype, questo è il programma. E non te l'ha detto Salvatore? Ok. Allora devi andare su Aiuto e Check Updates o Controllo Aggiornamenti. La scarichi in un attimo, va bene? Ok, ok. Ok, grazie. Ok, una mattina. Ci sei Salvatore? Ci sono, ci sono. Salvatore, hai toppato! Eh, purtroppo ho avuto occasione di sentirmi con David solo nell'ultimo momento, quindi... Ho capito. Ho avuto questo punto. Beh, comunque, intanto che aspettiamo che arrivi anche le tue immagini. Possiamo introdurre l'argomento. Sì, puoi introdurre l'argomento facendo anche una carta di identità di David, no? Un pochino parlando di cos'è il tipartitalia, eccetera, eccetera. Sì, dunque, David Mazzarelli è un giovane, diciamo, un giovane creativo di Toscano, di Prato esattamente, che è suggestionato, diciamo, dall'esempio americano che ha sconvolto la vita politica statunitense da due anni a questa parte, ovvero il fenomeno del T-Part, insomma, nato subito dopo l'ascesa al soglio della Casa Bianca di Barack Obama, naturalmente ha cercato di portare questo esempio anche in Italia, con risultati, dobbiamo dire, abbastanza interessanti. Il movimento è ancora piccolo, ma, insomma, è cresciuto, ha compiuto da pochi giorni un anno di attività e più o meno in diverse realtà italiane è riuscito a organizzare interessanti appuntamenti, dibattiti, insomma, durante i quali naturalmente si sono affrontate le tematiche del movimento, ovvero quello dell'eccessivo peso fiscale dello Stato e della maniera in cui è possibile contrastarla. Ovviamente in maniera democratica, chiaramente, trattandosi di un movimento che chiaramente accetta la dialettica democratica, insomma, comunque ritiene non sufficiente quanto messo in atto dal governo negli ultimi anni, chiaramente perché poi faremo notare nel corso della trasmissione che il peso fiscale, insomma, il centrodestra che è andato al governo con la parola d'ordine del meno tasse per tutti, alla fine poi, insomma, ha fatto, se possiamo dire il contrario, perché il peso fiscale, diciamo, il peso della pressione fiscale sui cittadini invece che diminuire è aumentata. Poi le vicende di Equitalia le conosciamo tutti, insomma, sono finite un po' nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi, anche per vicende piuttosto sgradevoli, pertenze molto, molto dolorose che riguardano centinaia di migliaia di persone. Ecco, intanto, scusa Salvatore se ti interrompo, dovrebbe essere nuovamente collegato David, però vedo che ancora alla vecchia versione di Skype non è fatto gli updates. Non so cosa farci, ragazzi. David, dovresti andare su Skype aiuto e poi... Ho già aggiornata. Ah, l'hai aggiornata, però io vedo che ancora non è l'ultima versione. Eh, ragazzi. Eh, però... Che me lo segnala Skype. Vediamo nella cultura dell'immagine. Vi accontentate di sentirmi? Va bene. Salvatore, vorremmo vedere almeno la tua immagine, prova ad avviarci il tuo video. Ah, non si vede? No. Un attimo. Adesso? Ci siamo? Allora, prova a richiamarvi, ragazzi. Scusate. Meglio. Chiediamo scusa ai loro spettatori di Tiburre di Cala, ma c'è stato questo problema. Proviamo a richiamare entrambi. Vediamo un po' selezioni. Eccoci. Ci siamo? Allora, avvia la webcam, Salvatore, almeno te. Fatto. Fatto. Adesso andiamo a se parte. Davide, prova ad avviarla anche te. Salvatore, magari suggeriscili come fare, visto i tuoi Windows, io non so come Skype. Prima ho provato a chiamare Salvatore e funzionava. Evidentemente non funziona in riflessione. No, perché è una questione di Skype Premium. Non ti sto a spiegare, Davide, tecnicamente che significhi, però. L'importante è che abbia io Skype Premium per fare la video della multiconferenza cam. E Salvatore, la tua webcam non ci arriva. Siccome siamo una web tv e non una radio, vorremmo fare qualcosa. Oppure ho pigiato diverse volte su MyVideo, ma evidentemente non... Davide, provi adesso a pigiare su MyVideo, vediamo se parte la tua webcam, perché forse adesso ce la dà buona. Cosa devo fare? Su MyVideo, giusto Salvatore, si clicca? MyVideo, sì, sulla barra che trovi sotto, sotto la finestra. Cioè, fine chiamata, aggiungi persone, MyVideo. Prova a cliccare su MyVideo e dovrebbe partire l'immagine. Non lo vedo questo MyVideo, ragazzi. Io non sono esperto di Skype, scusate, non lo uso mai. No, scusaci te, evidentemente dovevi essere un pochino introdotto. Solo vorrei... Vediamo un po'. No, no, non ti vediamo perché non hai l'ultima versione di Skype. Ok, sta, ecco, adesso è arrivato Salvatore. Sono un vecchio conservatore. È arrivato Salvatore, io vi lascio la vostra conduzione, pazienza, non abbiamo l'immagine di David, serve una bella fotografia con un hot dog, credo, in mano, sì, giusto? Preferirei non ci fosse la mia, l'immagine. E quindi, cosa dirvi, se no, buon appetito con David Mazzarelli e Salvatore Antonaci. A voi la lì. Perfetto, Roberto, grazie per l'introduzione. Abbiamo avuto qualche leggerissimo contratto a tempo tecnico, però speriamo di ovviare con l'interesse che susciterà questa trasmissione. Sicuramente non c'era tanto interesse a vedermi, dai. Vabbè, è una questione di punti di vista, ovviamente. Dunque, David, io ho provato a introdurti un po' come ospite, insomma, accennato alla tua avventura con Intipart Italia. Io vorrei iniziare innanzitutto parlando di questo importante avvenimento che è un po' la razza di questo tuo intervento. Cioè, il 25 giugno, in quel di Prato, è previsto il cosiddetto Tax Freedom Day, insomma, che riprende un'iniziativa, un'iniziativa, diciamo, di altri importanti gruppi liberali e liberisti mondiali. Ce ne vuoi parlare? Vuoi introdurre questo importante appuntamento? Molto volentieri. Innanzitutto ti ringrazio, Salvatore, dell'opportunità di promuovere, insomma, l'evento, di essere qui con te a parlarne. Il Tax Freedom Day è il primo anno che lo celebriamo. In realtà è un bel momento per ritrovarsi tutti insieme dopo un anno di attività di Intipart Italia. Ci ritroveremo sabato 25 giugno, alle 5 del pomeriggio, fino a notte, con musica, DJ, dibattiti, enogastronomia e tanto altro. Una vera e propria festa della libertà che inizierà alle 5 del pomeriggio ad Officina Giovani, in Piazza dei Macelli 4, a Prato. Ci saranno degli ospiti, sia nazionali, sia della città. Insomma, è una bella occasione in cui vi spero di vedervi tutti per parlare di libertà, di libero mercato, in un momento in cui queste tematiche sembrano assediate più che non mai. Eh sì, infatti dobbiamo, soprattutto diciamo, dopo l'esito referendario, naturalmente è un po' quasi eroismo continuare a patrocinare queste cause. Chi sono tra il parterre degli ospiti? Chi spicca in modo particolare? Se ci puoi dare qualche nome? Sì, guarda, allora, ci sarà Enrico Montesano, il celebre attore che tutti conoscerete, che, diciamo, darà il via all'incontro in maniera molto informale e divertente. Ci sarà Francesco Carbone, un economista fondatore di newsandlab.com. E ci saranno poi un dibattito, il dibattito a seguire, che partirà alle 6 del pomeriggio. Avrà come ospite il nostro sindaco Roberto Cenni, che è un po' un sindaco atipico, perché è un imprenditore, è per la prima volta, diciamo, la sua giunta, che è mista civica e PDL, ha vinto dopo 63 anni di sinistra a Prato. Prato porterà il proprio saluto, la propria esperienza, e interverranno altri personaggi di Prato, liberali e meno liberali, che daranno vita a un bel dibattito dal titolo Libero Mercato contro lo Stato Assistenziale, le proposte da Prato per uscire dalla crisi. Prato, come sapete, è una città simbolo della crisi, per certi versi, perché era stata protagonista per decenni della storia imprenditoriale italiana, un centro industriale importantissimo, preeminente nel settore testile a livello internazionale. Dopo la crisi, non solo dell'11 settembre, la crisi a Prato era arrivata da molto prima, con l'avvento della comunità orientale, ma anche con tanti altri fattori internazionali. Prato ha avuto una crisi forte nel settore testile, ma non solo. Quindi, insomma, vediamo se le ricette per uscire da questa crisi debbano passare ancora per l'assistenzialismo o magari si possano fare proposte concrete all'amministrazione anche in un senso di libertà individuale e di libero mercato. Senti, ovviamente Davide si andrà avanti, come hai accennato, una specie di notte bianca liberale, libertaria, insomma, no? Sì, è una specie di notte bianca. Ovviamente con contenuti, con ben altri contenuti, insomma, che non siano solamente quelli importanti, voglio dire, del divertimento, dello stare insieme, gli aspetti più conviviali, ma anche, come giustamente hai sottolineato tu, quelli più, diciamo, politici, culturali. Certo, sarà un momento sia per stare insieme, quindi ci ritroveremo con un po' tutti i gruppi del Tipa Art Italia, ma anche con molte associazioni che, insomma, che condividono le nostre battaglie, fra cui i Conf Contribuenti, fra cui i Rete Liberal. Verranno da noi, quindi sarà un momento per stare insieme con anche i nostri ragazzi un po' da tutta Italia, avrà il gruppo Piemonte, il gruppo Lombardia, il gruppo Emilia Romagna e tanti altri. Dalle 20 ci sarà anche un bel rinfresco a cura dell'agriturismo sottotono, che è il nostro sponsor dell'iniziativa, e dalle 10 ci sarà anche un DJ set a cura di un'associazione locale con Revival, insomma, sarà un momento molto carino sia per parlare di temi interessanti, sia per stare insieme, sia per passare una bella serata. Sì, insomma, mi sembra una presentazione abbastanza esaustiva di un appuntamento importante, ribadiamolo soprattutto sotto questi chiari di luna. Senti, ma naturalmente l'attivismo di Tipa Art Italia non si ferma qui, nel senso che voi siete reduci, insieme agli amici di Conf Contribuenti, di Jonathan Pacor e Elisa Serafini, della manifestazione contro Equitalia del 16 di questo mese a Roma, che è quasi un primum, quasi una prima uscita di un movimento di contestazione contro una realtà statale potente e pervasiva come quella di Equitalia. Cosa ci puoi dire di questa manifestazione? Guarda, io non ero direttamente presente in quanto ero all'altiparty di Genova che era nello stesso momento. C'era il nostro gruppo di Roma, fra cui Daniele Venanzi e tanti altri ragazzi, c'era Conf Contribuenti e tanti amici. So che è andata bene, che c'era tanta gente, so che è comunque una battaglia che inizia adesso e che è difficile. È difficile per tanti motivi, per cui appunto, come tu hai ben detto, ci muoviamo contro un apparato statale importante, un braccio armato dell'apparato statale, che è ancora peggio forse, che rappresenta Equitalia. L'unico modo forse per essere incisivi, credo, sia quella di fare rete. Di fare rete abbandonando manie di protagonismo, abbandonando l'idea di che la propria associazione porti avanti in solitaria una battaglia contro i mulini a vento, ma facendo rete con tutte quelle realtà in Italia, di buona volontà, vicine alle nostre idee, o anche magari vicine soltanto in queste issues, in questa particolare tematica e contro questo particolare problema, contro questo particolare nemico. fare rete con tutte queste associazioni per, al fine, di essere più incisivi e far portare all'attenzione nazionale un problema, che è quello dell'Equitalia, che è molto grave, che sta portando nell'astrico numerose famiglie e numerose imprese in tutta Italia. Basti pensare, Davide, alla vertenza clamorosa e dirompente che si è sviluppata in Sardegna nelle ultime settimane, insomma, che ha fugacemente raggiunto anche la ribalta mediatica nazionale, insomma, è stata una protesta molto, molto, molto rumorosa, insomma. Sì, noi, fra l'altro, sì, scusami, in Sardegna a Cagliari eravamo anche presenti con alcuni di noi nella manifestazione del mese scorso, se non erro contro Equitalia, c'erano veramente migliaia di persone in piazza. Lì hanno una sorta di vantaggio, che benché la situazione sia molto grave per le famiglie, lì possono fare qualcosa in più, in quanto Sardegna, regione del statuto speciale, il governatore può incidere, diciamo, con i provvedimenti maggiormente di quanto, per esempio, lo possa fare il governatore della Toscana, anche se non credo abbia intenzione di fare alcunché, però, in ogni caso... Ovviamente, ovviamente, diciamo, fatta salva la volontà degli individui, poi vedremo, insomma, speriamo, poi naturalmente si tratta di incalzare, come come fate benissimo. Certo, certo, certamente. Quindi, dunque, volevo chiederti, Davide, ovviamente poi tu parlavi di rete, uno dei vizi storici del liberalismo italiano, almeno dalla scomparsa del partito che rappresentava, diciamo, a suo modo le sensibilità liberali in Italia, si è creata una specie di vuoto, sono nate, diciamo, sulle ceneri liberali e di altri soggetti politici tutta una serie di organizzazioni più o meno di area, diciamo, si va dal liberalismo moderato al libertarismo capitalista, insomma. Il problema è che, appunto, non si riesce, diciamo, a coagulare questa galassia, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui ci sarebbe veramente la necessità di un soggetto liberale che potesse scuotere un po' questo sistema italiano che è chiaramente chiuso in una dialettica sfitti storica tra destra e sinistra, che poi alla fine finiscono un po' per equivalersi, che poi alla fine gli strumenti di politica portati avanti dai due schieramenti sono molto simili, al di là delle differenze ideologiche proclamate, no, Davide? Certamente, tu hai citato giustamente la galassia di associazioni liberali che sono nate in questi ultimi, diciamo, dopo lo scioglimento del Pli e ancora oggi, una delle cose che Silvio Berlusconi, per cui si verrà ricordato, sicuramente la rivoluzione comunicativa, insomma, certi temi liberali, l'idea del meno tasse e di altri temi sono state portate anche da Silvio Berlusconi. Sento un po' di eco, è possibile o lo sento solo io? Pronto? Mi sentite? Salvatore, mi senti? Grazie. 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 Grazie a tutti. Eccomi Salvatore, che succede? Ok. Non si sente più il Salvatore, perfetto. Ci dovete scusare Abbiamo avuto un impedimento Proviamo a chiamare nuovamente Pronto? Sì, Salvatore Rieccoci Abbiamo avuto una piccola defiance Ok, vi ridò la linea Comunque Ovvieremo in fase di Post montaggio Nulla di allarmante Benissimo, siamo qua Allora, Davide Adesso mi veniva una battutaccia Poi naturalmente Ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione A nominare il nome di Silvio Invano E le tasse ovviamente La natura si prende la sua rivincita Sì, infatti No, eravamo rimasti Appunto, stavo dicendo Sì, certi temi A livello comunicativo se non altro Sono stati sdoganati Da Silvio Berlusconi In questi anni Quello che Tiparti voleva fare Non era certo creare Un'ennesima associazione liberale Che andasse a rifare le riunioni Nella gabina telefonica Come altre mille associazioni liberali Noi volevamo creare Un punto di aggregazione Neanche un'associazione Un movimento Che potesse portare Collaborando Facendo rete Con le associazioni I gruppi Le singole persone Già esistenti Già in Italia In questa galassia Che potesse organizzare Con loro degli eventi Degli eventi Per tradurre Certe tematiche Al popolo Per portare Certe tematiche In piazza Negli eventi È proprio per questo Che nel nostro DNA Abbiamo iniziato Un anno fa Con un evento E abbiamo proseguito In tutta Italia Con tanti eventi La cosa interessante Davide È che voi fate Un po' vostra La filosofia fusionista Americana Cos'è il fusionismo? Il fusionismo Era quella tendenza politica Diciamo Sviluppatasi Nell'Istates Anni 50-60 Che cercava di fondere I due filoni Della destra americana Quella conservatrice E quella libertaria Un po' Diciamo in piccolo State tentando Di fare anche voi Perché vi ponete Diciamo All'incrocio Di queste due Due grandi culture Due grandi culture Politiche E ovviamente Per scelta Avete deciso Di occuparvi più Del lato economico Fiscale Piuttosto che Del terreno Diciamo Un po' Scivoloso Che è quello Delle libertà individuali Di diritti civili Che insomma Può dare adito A delle posizioni Anche Abbastanza Profondamente Divergenti Per esempio Che ne so Un tema Di cui abbiamo parlato Nella scorsa Ora di trasmissione È stato quello Dell'antiproibizionismo È noto Che molti libertari Sono Anzi tutti Libertari Sono a favore Della Diciamo Della Depenalizzazione Della Legalizzazione Della liberalizzazione Delle sostanze Stupefacenti Mentre naturalmente In ambito conservatore La cosa è vista Molto più negativamente Certamente Dobbiamo dire Per lo meno Negli Stati Uniti Anche il mondo conservatore Si sta Si sta aprendo A queste ipotesi Da noi Vabbè È un po' diverso Quindi L'esperimento Diciamo L'interesse D'esperimento È anche questo Riuscire a Riuscire un po' A svecchiare A portare Diciamo Su nuove frontiere Un mondo conservatore Italiano Che si è Purtroppo Da sempre Connotato Per i suoi caratteri Più reazionari E conservatori Insomma Certamente Certamente Il Tipart Italia Si è sempre Diciamo Noi diciamo Sempre di essere Un single issues Movement Un movimento Che si focalizza Esclusivamente Almeno In questo momento Su una tematica Fiscale Che poi alla fine Tasse Dire tasse Significa dire Spesa pubblica Significa Dire invadenza Dello Stato La nostra vita Di cui le tasse Sono la cosa La cosa più percepibile La fusione Destra-sinistra Quello che tu dici No scusami La Destra-sinistra La comparazione Destra-sinistra Adesso secondo noi Sono due termini Abbastanza anacronistici Cerchiamo di superarlo E diciamo Che esistono due visioni Sono visioni Di più Stato E meno Stato Esiste un'Italia Che chiede Più Stato Un'Italia Che chiede Meno Stato L'Italia Che chiede Meno Stato Ultimamente Viene messa ai margini Ma non perché Non esista Ma perché Certe In un momento Storico come questo Certe tematiche Sono messe ai margini Della comunicazione Sono messe ai margini Dei media E così succede Con un referendum Come quello Che abbiamo visto La scorsa settimana Milioni di persone Una stragrande maggioranza In cui dentro Ovviamente Vi sono E molte anche persone Che conosco Appartenenti alla galassia Conservatrice O liberale Sono andate a votare Sì Questo significa Un cortocircuito Innanzitutto A livello comunicativo Quello che crediamo noi Ah è caduto Salvatore Ok Eccoci Un'altra ricaduta Quest'oggi Un po' Una sorta di Un po' Una sorta di Via Crucis L'importante è Rialzarsi sempre Sia meno Fausta Diciamo Eh va bene Tavolta non è colpa mia No assolutamente E mi hai sentito O Sì sì No no Ti ho sentito Ti ho sentito Poi naturalmente Approfondiremo anche Diciamo nei limiti Del nostro tempo La questione Referendare Che è stata un po' No Una Quasi una pietra Migliare Nella sorte Di questo Di questa Legislatura E credo anche Negli anni a venire Perché insomma Effettivamente Purtroppo Dobbiamo dire Un governo Che non riesce A difendere In maniera In maniera Precisa e puntuale I propri stessi Provedimenti Esatto Cioè magari Leggi anche per carità Cioè Certamente Vittimo impedimenti Personalmente Non lo condivido Però sul nucleare Oppure Sulla Diciamo Sull'accoglimento Della direttiva europea Per l'ingresso Dei privati Nella gestione Dei risorse Sì che francamente Era un provvedimento Che era stato firmato A suo tempo Dal centrosinistra Quindi Non era nulla Di ultraliberista Di come è stato dipinto Dai vari celentani Zanotelli Insomma E compagnia E compagnia cantante Su questo Magari poi In finale Trasmissione Facciamoci Soffermi Certamente Quindi tu hai detto Che insomma Tipart Italia Tra l'altro Ha festeggiato da poco Il suo No Il suo primo Anniversario di Costituzione Che bilancio Che bilancio Trarne Perché ho visto Che bene o male In quasi In quasi tutta Italia Perlomeno In buona parte D'Italia Sono nati Dei gruppi spontanei Che Fanno La loro Opera di attivismo Che quindi Si è creata Un po' Quella Quella rete Di cui Di cui parlavamo Certo Non sono numeri Diciamo Come dire Masse No Masse Di milioni Però insomma Sono comunque Rappresentano Comunque la volontà Di organizzare Qualcosa sul territorio Che È importante Cosa mi dici Certo Guarda Mi viene in mente Un motto Che dicevamo sempre All'epoca Quando militavo In alta organizzazione Politica Non dite che siamo Tanti Dite che siamo No Ed è vero Tipart Italia Non muove migliaia Di persone Ma certamente Io penso Che come ha scritto Recentemente Cesare De Carlo Editorialista di QN Nei suoi giornali Che insomma È già un miracolo Che esista Diciamo In un paese Come questo È già un miracolo Che esista E che abbia Sdoganato Certi temi Dalle classici Circoli liberali Portando In piazza Le persone È vero Abbiamo fatto Tanti eventi Ma la cosa Più bella È che Li abbiamo fatti Con persone Di ogni tipo L'abbiamo fatte Dal Per esempio La signora Che è coordinatrice Della Emilia Romagna Una dentista Il coordinatore Dell'Umbria Un architetto E così via Studenti Universitari Piuttosto che Imprenditori E piuttosto Anche che Anche associazioni Liberali Che sul territorio Hanno voluto Fare i propri Diti parti Come per esempio Percorsi in libertà Di Lecco Con cui faremo Un grande evento Il 3 luglio Sul lago di Lecco Quindi in senso Noi abbiamo fatto Quasi 20 eventi In un anno Siamo passati Da Milano A Firenze A Parma Siamo stati In Toscana A Pisa A Massa Siamo stati A Torino Siamo stati A Perugia A Pescara A Bologna Insomma Adesso saremo Sabato prossimo A Prato Poi di nuovo A Lecco Abbiamo tappe Programmate Fino a Settembre Certamente C'è voglia Di partecipazione C'è voglia Di aggregazione C'è voglia Di fare sentire Queste tematiche Ovviamente Noi non abbiamo Un mainstream Dei media Che parla di noi Non abbiamo Ingenti risorse Economiche Né Tribuni Alla Beppe Grillo Che possono Endorsare Le nostre Opinioni Nei media Mainstream Quindi insomma Quello che Quello che Riusciamo a fare Quello che siamo Riusciti a fare Adesso Ha già del miracoloso In questo momento Secondo Almeno a mia opinione Io peraltro Ricordo un paio Di buone Ottime Performance Televisive In Diciamo In trasmissioni Abbastanza Importanti Tipo Cos'era Santoro Hai avuto Diciamo Uno spazio Di tribuna Diciamo Nel settore Giovani Parlando Diciamo Tra l'altro Tirando fuori Una proposta Molto Molto Interessante Che era Quella Diciamo Della privatizzazione Di parte Del nostro Tesoro Di beni culturali Insomma Roba che Adesso Ed è tornata Di attualità Se pensiamo Che la Grecia Per esempio È pronta A vendere Sic et Simpliciter Una parte Delle proprie Isole Insomma E poi Magari Passerà Anche Ai monumenti Quindi Cosa ci vuoi dire Di questo Diciamo Di questo Tuo Impatto Con Col Mondo Mediatico Mainstream Perché Parlando Di Santoro Ovviamente Parliamo Di una Trasmissione Che Non solo È seguita Con interesse Da milioni Di Telespettatori Ma che Comunque Fa Opinione Ovviamente Noi Divergiamo Dalla Dal tipo Di opinioni Che vengono Veicolate Da questa Trasmissione Però Dobbiamo Dire Che è Una Che è Un Diciamo Che è Una Un Media Di 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 Primordine Di Primo Livello Cosa ci Puoi dire Di questa Esperienza Con Il grande Pubblico Allora A livello A livello Mediatico Se Comunque Non abbiamo Un spazio Continuativo Né Soprattutto Perché Non ci Sono Testimonial Televisivi O Testimonial Che fanno Opinione In maniera Allargata Di massa In tutta Italia Ci hanno Chiamato Molte volte Tu mi citavi Annozero Ci hanno Chiamato Anche da Gadler Siamo stati Un mese fa Sul Rai3 Una mattina A parlare Con Michele Mirabella Tutti i programmi Tendenzialmente Di sinistra Non so Se ci hanno Invitato Forse In una In una Loro Strana Logica In funzione Forse Un po' La logica Del Il Nemico Del mio Nemico E mio Amico E mio Amico Infatti Sponda Certamente Certamente Sono Un toglie Che comunque Sono occasioni Importanti Per dare Visibilità Certamente Certamente Più che Visibilità Al movimento Diciamo Visibilità Certe idee Io mi ricordo La trasmissione Di Mirabella Un mese fa Prima che Andassi Io A parlare Cioè Ha iniziato La trasmissione Citando Celebre frase Di Padua Schioppa Sulle tasse Sono bellissime Io ho pensato Dentro di me Beh adesso Dirà Beh guardate Che stupidaggini Che dicevano I nostri ministri O comunque al massimo Che esagerazioni Invece ha detto Proprio l'esatto contrario Ha detto Il nostro compianto Ministro Diceva queste Frasi Così veritiere Chi dice il contrario È uno stupido In diretta In diretta nazionale In diretta nazionale In un programma La mattina In cui sicuramente Visto da studenti Da casalinga Insomma Sembrava quasi Una sorta di Divisione educativa Della Rai Di altri Come insegnano Come insegnano Diciamo I maestri francesi Di un tempo Lo stile fa l'uomo Quindi bene o male Certe affermazioni Connotano Un po' Un certo ceto Ceto Come dire Riflessivo Pensante Insomma Che bene o male Comanda qui in Italia Da decenni Senza dubbio Senza dubbio E comanda Non è stato Qui ovviamente A fare Apologie Di nessuno Di nessun Tipo Di destre Nostalgiche Neo Post Fasciste Di qualsiasi Tipo Però È un dato Di fatto Insomma No Sì Assolutamente Tante altre trasmissioni A livello anche radiofonico Hanno parlato di noi Per esempio Caterpillar su Rai 2 Tanto è voluto dire Salvatore Il fatto anche di portare un brand Un marchio Chiamiamolo così a livello pubblicitario Che è di quello di cui io mi occupo Un marchio riconoscibile Ossia quello dei Tea Party Che aveva un eco americano Quindi sicuramente quando noi facciamo Ad esempio degli eventi a livello locale Penso all'ultimo evento in provincia di Pistoia Ad Agliana che è un piccolo paese In provincia di Pistoia Benché con una storia industriale importante Abbiamo avuto ben sei articoli di giornale Anche consistenti nel giro di una settimana Dedicati all'evento Giornalisti che sono venuti Insomma tutte le tappe che abbiamo fatto Fino dalle più piccole Hanno avuto un grosso riscontro mediatico Anche se magari solo sulla stampa locale Però insomma penso che sia Importante perché insomma Tante cose si possono fare anche A livello locale Quindi non per forza si debba passare Per i media mainstream Ma un lavoro più semplice E che comunque può essere efficace Potrebbe passare anche da qui E per questo anche la mia idea E la mia volontà di radicare sul territorio Gruppi in tutta Italia Di persone Di associazioni Di ogni tipo Che sono intenzionati A fare i propri tiparti Quindi ovviamente Noi il consiglio è quello Un po' di bypassare Il mainstream mediatico Per comunicarsi Ad altri mezzi di comunicazione Appunto tu dicevi nuovi O più o meno nuovi Tipo la stampa locale O anche la rete ovviamente Molto di quello che è stato possibile fare E' stato in grazio Ormai della pervasività Della rete internet Che ha permesso Guarda Internet È un mezzo eccezionale E prima di noi Movimenti come quello di Beppe Grillo Grillo ce lo insegna Prima ancora che Che tutti Iniziassero Lui era già con il proprio blog Io stesso Con Alcuni Con Cosimo E altri nostri amici Avevamo Abbiamo ultimatule.it Che è una rivista online Che di cui adesso Ci apprestiamo A festeggiare il decennale Con un restyling Noi dieci anni fa Già uscivamo sul web Con una rivista Registrata in tribunale Che portava Che portava notizie Che portava idee Di fusionismo Conservatore e liberale In Italia Noi parlavamo Di partito unico Quando ancora veniva L'orticare Agli attuali dirigenti Dei partiti unici Parlare di partiti unici Adesso Che siamo Che siamo contro Questo partito unico E al contrario Alla gente Inneggia il partito unico Insomma Essere avanguardi A volte vuol dire Anche dire In momenti In cui tutti sembrano dire Una cosa Dire l'esatto contrario No Salvatore Anche in livello Un po' provocatorio Anche se poi A riprendere un po' L'olonganese Dice che effettivamente Sia un po' In questo paese Sia un po' Conservatori Appunto in un paese Dove c'è poco Nulla da conservare Il conservatorismo In questo paese Un po' di rivoluzionario Ovviamente Inteso ovviamente In senso no In senso proprio Non voglio dire Di conservazione Dello status quo Come appunto Guarda Io vengo Io provengo Da un mondo Non lo nego Non è assolutamente Non da un mondo Dal mondo conservatore Quindi dalla Dalla destra giovanile Da quella che era Azione Giovani In cui poi Mi sono allontanato Perché non condividevo Appunto Le sue posizioni Eccessivamente Stataliste Centraliste Io Ho vissuto Ho vissuto questo Adesso vedo Vedo un cortocircuito Anche in questo senso Vedo la sinistra Che nei 150 anni Espone in tutte le case I tricolori Le amministrazioni Che fanno i tricolori Più in tutte le piazze Adesso La difesa Della costituzione Cioè Quando sventolare Un tricolore Fino anche A dieci anni fa Ti tacciavano In piazza Un banchetto di piazza Del fascista Adesso Adesso Che noi Non si Non si Sì Sì Sono veramente Dei cortocircuiti Curiosi Della storia Che Non lo so Forse tu Da esperto In mangiamento Di queste cose Mi puoi spiegare Purtroppo È una tendenza consolidata La mia Diciamo La mia teoria Così Se poi Così si può definire Insomma Io mi limito A riprendere Riprendere le parole Di persone Insospettabili Insomma Che Giuliano Amato O vent'anni Si fece sfuggire Delle Diciamo Delle affermazioni Che avevano il sapore Della verità Proprio su Radio Radicale Quindi rimangono agli atti Lui disse che Praticamente Tra il regime fascista E il cinquantennio Post fascista democratico Non c'era una Una soluzione Di continuità Quindi Ah beh Sicuramente Salvo poi rimangiarsi Cioè Il problema Il vizio di Vizio di fondo È quello Che poi in realtà È una società Che è rimasta Profondamente Fascista Insomma Beh Cos'altro Forse sono Le democrazie di oggi Se no La versione Un po' Ripulita Di quelli Erano stati Totalitarismi Non so Forse Magari È una visione Diciamo Che ha cittadinanza Che è una certa Faccia del pensiero Libertario Per esempio Penso a Nanser Manoppe Che rifà appunto La critica Della democrazia Partendo appunto Da questa Sioma Che la rende molto Simile Ad esperienze Diciamo Autoritarie Del passato Ovviamente Edulcorate Salvatore Se vediamo Se vediamo Cosa è successo Anche in questo Referendum Se vediamo Cosa sono Le democrazie Oggi Vediamo che Insomma Eh sì C'è un Mainstream Mediatico Che è detta L'agenda politica Che non ha niente Di quella democrazia Che noi Di cui Tutti si riempiono La bocca Ma che Mi fa ricordare Certi Modus Operandi Di regimi Nazionalisti E o Socialisti Eh sì Perché poi Alla fine Insomma È un po' La critica Che Diciamo Che anche Il mondo Libertario Magari Quello Un attimino Più Tra virgolette Oltre le righe Rivolge Per esempio Appunto A tutti A sistemi Compresi Quelli Democratici Sto pensando Negli Stati Uniti Con Diciamo Il cortocircuito Tra Guerre E Statalismo Economico Insomma Che è una Specie di Legame Indissolubile Più c'è Ovviamente Il secondo Più il primo È Evidente Insomma Quindi Questo Appunto È Quel legame Indissolubile Che Appunto Genera la Crisi Della democrazia Si arriva A definirla Democrazia Reale Quasi ricordando Quei tempi In cui anche Il socialismo Era definito Reale Quello Delle democrazie Tra virgolette Popolari Dell'est Europa Dove dicevano Che questo In fondo È l'unica L'unica Maniera In cui È possibile Costruire Il socialismo Ovvero La via Autoritaria La via Poliziesca E purtroppo Mi pare Che pari Pari Questo Schema Si stia Trasferendo Anche Nel campo Delle democrazie Occidentali Di quelle Che erano Viste come Le vincitrici 20 anni fa E adesso Si stanno Diciamo No Tra virgolette Socialistizzando Sono assolutamente D'accordo Ed è vero Che ci sono Tanti segnali Se Molti di noi Avranno letto La rivolta Di Atlantide In REND Se guardiamo Quel mondo Fantastico Immaginato Dalla REND Di quest'America In cui Pian piano Provvedimento Provvedimento La società Si stava Stava diventando Sempre più vicina A quel socialismo Reale A cui la REND Stessa Era sfuggita Se ci guardiamo Intorno In Italia Sono tanti Segnali Che vanno In questa direzione Ma pensiamo A strumenti Come Equitalia Appunto Pensiamo Agli studi Di settore Pensiamo A tante Piccole cose Come per esempio Non lo so Dagli aumenti Della benzina Per sostenere Lo spettacolo O a tante Alpre gabelle Che sembrano Sembrano Sciocchezze Sembrano cose piccole Però sommate Uno all'altro Indicano Una situazione Veramente preoccupante Indicano Una mano pubblica Sempre più presente Ma soprattutto La cosa che a me Personalmente Sconcerta È che non vi siano Sì Io ho visto Gli indignati Spagna E ho visto I loro corrispettivi Italiani Ma che indignazione È un'indignazione In cui ha L'invadenza Dello Stato L'unica cosa Che sa proporre Nazionalizziamo Le banche Nazionalizziamo Tante altre cose Cioè Ancora più Stato Per risolvere I problemi Dello Stato Quello che chiedono Indignati È ancora più Stato Quindi dov'è L'indignazione vera Dov'è l'indignazione Che dice Qui ci state Rubando la libertà E questa È una cosa Veramente preoccupante Anche Nella mia generazione Io ho 29 anni Vedo Mie coetanei O anche persone Più giovani Che manifestano Per l'esatto contrario Per il mantenimento O il peggioramento Dello status quo E questa È una Veramente È un quadro Desolante Salvasore Hai colto Hai colto Perfettamente il punto Perché io ti stavo domandando Cioè in America La rivolta Della Diciamo Dell'individuo Della società civile Tra virgolette Ha Ha dato Origine Al fenomeno Dei tiparti Di cui stiamo Stiamo parlando E anche Non dimentichiamo Anche in America La situazione È molto 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 difficile Dal punto di vista Della penetrazione Dello Stato Nelle vite Nelle vite Private Dei cittadini Americani Anche lì L'economia Sta Veramente Letteralmente Andando Andando a rotoli Travolta Da quello Che viene definito Il twin Deficit Il doppio Deficit Che sta Veramente Riducendo L'economia Statunitense In una situazione Di quasi Default Insomma A differenza Di quello Che succede In America Uniti Parti Qua in Europa La risposta È stata Appunto Quella Del No Cioè Della richiesta Di fronte Alla crisi Degli stati nazionali Perché di questo Dobbiamo parlare Ormai C'è quasi un atteggiamento Comprensibile Dobbiamo dirlo Di paura Di perdere Diciamo Quello Che è stato acquisito Nei decenni successivi Qualcuno Parlando di questo Atteggiamento Lo ha Diciamo Paragonato Magari Un'immagine Un po' Forte A quello Diciamo Di alcuni Tossicomani Che appunto Non possono fare A meno Della dose Quotidiana A cui sono stati Abituati per decenni Cioè Alla Crescita Esponenziale Del Peso Della mano Pubblica Nell'economia Ma non solo Nella società Nella vita di ogni giorno E quindi Reagiscono A questa Mancanza Di Appunto Del Del veleno Che Che li ha Intossicati per decenni Appunto Andando in piazza Reclamando E reclamando Reclamando Più Stato Così è il caso Della Spagna Con gli indignati Così è il caso Ben più drammatico Della Grecia Che insomma Rischia In un momento All'altro Di esplodere In una Spirale Di caos Di Di anarchia Ingovernabile E quindi Mi pare proprio Che sia proprio Il centro Il centro Proprio Della Crisi Che stiamo Vivendo Questo Diverso Approccio A una situazione Di crisi globale Che investe appunto L'America Che però Cerca di dare Cerca di dare Una risposta All'Europa Che viceversa Sembra rinchiudersi Noi Non in un fortilizio Di Ultrastatalismo Che poi alla fine Fa convergere Tutte le ideologie Stataliste Perché poi Se vai a vedere La sinistra Più o meno estrema La destra Più o meno estrema Convergono Nella critica Al globalismo Alla liberalizzazione Alla fine Poi gli estremi Si toccano Infatti Guarda Io ero A Prato In piazza Due giorni fa A sentire un dibattito Tra i vari componenti Di associazionismo E di Povimenti politici Giovanni Liberatesi Uno di questi Esponenti Fra cui Il ragazzo Esponente Di generazione Futuro Quella di Fini Detto La situazione attuale È la palese Dimostrazione Del fallimento Dello Stato liberale Io gli volevo dire Ma quando mai Lo Stato liberale C'è stato Quando mai c'è stato Adesso si invoca Il fallimento Ma cosa Cosa ci stiamo raccontando Il sabato prossimo Staremo a Prato Anche con Francesco Carbone Che è Un economista Bravissimo Che ha scritto Appunto questo libro La tragedia dell'euro Per parlare anche Di questi Di questi macro Contesti E Di cui Facevi giusto riferimento Io penso Salvatore Che Come ho avuto modo Di scrivere Sul nostro sito Che è www.tipartitalia.it Che se non siamo Adesso A livello Del nordafrica Delle rivolte Di quello che vediamo Tristemente In giro per il mondo È perché Ancora Ancora sostanzialmente I giovani Ma non solo In Italia Stanno bene Ancora Insomma Chi lo fa fare A tanti giovani Di andarsi A sbattere In piazza Di andare A protestare A mettersi la faccia Quando poi Alla fine I soldi Per andare A mangiare fuori Ce l'hanno E questo è un po' Detto In parole povere Un po' Quello per cui Ancora in Italia Non c'è un movimento Di massa Che protesta Per queste cose Arriveremo Di questo passo Arriveremo Inevitabilmente È un default Arriveremo Al momento In cui Dovremmo dire Ve l'avevamo detto Di queste cose In cui Anche Toccherà Anche l'Italia Sì Gli avvertimenti Poi ci sono tutti Voglio dire Le massime istituzioni Internazionali Le agenzie di rating Che non hanno fatto Un gran lavoro Dobbiamo dire Nel caso americano Perché hanno certificato Dei bilanci Voglio dire Palesemente Truffaldini Adesso ci dicono Che l'Italia Risca il default Cosa giustissima Però Effettivamente E ci dobbiamo Preparare In momenti Abbastanza Pesanti Insomma Sì In Italia Adesso Come adesso Prevale Una convinzione Secondo cui Lo Stato Alla fine Non è mai Troppo pervasivo E abbia Il diritto O comunque Il dovere Di pescare A piacimento Le nostre tasche Debba intervenire Sempre e comunque Ancora La formazione Della ricchezza privata È quasi Considerata Sfruttamento sociale O quasi un peccato Per dirla In un'ottica cattolica Infatti Mi rifarei Diciamo Alla influenza Ovviamente Questione di punti di vista Nefasta Del pensiero Cattolico Che ha sempre Demonizzato La ricchezza Il profitto Non quello personale Quello riguardante La categoria Permettimi Questa puntatina No te lo permetto È giustissima Come formazione Cioè Nei paesi Nei paesi Tra virgoletta Capitalismo avanzato Bene o male La chiesa Non si è mai Non si è mai Interposta Nello sviluppo Del capitalismo Mi riferisco Che ne so Alli Stati Uniti L'Inghilterra Nel nord Europa Anzi è stata Una specie Di lievito Anzi L'iniziativa Individuale L'imprenditoria Nella società Anglosassone Protestante È veramente Essere benedetti Da Dio Riuscire A portare avanti Certe idee Certi business Perché soprattutto Hanno fatto loro Proprio la separazione Tra Stato E economia E chiesa Insomma E fede Che poi È all'origine Della Della modernità Della libertà moderna Insomma Cosa che qua in Italia Ancora sì Vabbè È accennata Però in Costituzione Ad esempio È scritto Che insomma Vige regime concordatario Robbe da regime totalitario Insomma No Sì guarda Ne parlavamo Anche a Genova Con Giacalone Altiparti di Genova Con questo fatto Appunto Del retroterra Culturale Misto Un po' Alla fine Misto di Socialismo E di catto comunismo Alla fine Alla fine L'Italia Era il più grosso Paese comunista Dell'Occidente Possiamo dire No È questa È questa sorta Di invidia Di chi è capace Che genera passività Genera pigrizia Genera appiattimento Genera tutto il contrario Dell'emulazione Cioè Alla fine Come dicevamo Appunto Discutevamo Alti parti di Genova In Italia Chi Magari L'ultimo della classe È quello che ci fa più simpatia No È quello che Ma dai Proviamo Magari A A A Mandare un ritmo Più lento Per stargli dietro Ma no Ma bocciamolo Cioè È questa È quello che diciamo Siamo tutti franti Insomma No Per riprendere Un libro che ha avuto Diciamo Un'influenza Nefasta Su generazioni Di Di italiani Insomma No Il cuore Di amici Eh sì sì No Questi ultimi minuti Di trasmissione Credo conferma Roberto Credo che dovremmo avere All'incirca dieci minuti Poco più Poco meno E niente Vorrei Vorrei Sì Quindi abbiamo una decina di minuti Roberto Mi confermi Perfetto Allora no niente Davide io vorrei affrontare Un po' Lo so che è un Compito sgradevole Diciamo Però Andiamo un po' Ad immergerci Tra i miasmi Diciamo Della cucina politica Nazionale Insomma Dobbiamo No? Dobbiamo parlare anche Di questi argomenti Vai pure Eh ovviamente Vabbè sappiamo Che il centrodesto italiano Si trova in un momento Di Di gravissima difficoltà Alcuni blogger Dell'area Molto Molto interessanti Come Ad esempio Gli amici di Tocqueville The Right Nation Scenari politici Hanno evocato Addirittura La No La La fine del Del sistema Berlusconiano Che ha retto bene o male Le sorti del centrodesto italiano O per un ventennio Direi più Più nel male Che nel bene Comunque Appunto A parte A parte Diciamo Quel riconoscimento Postumo Che anche tu Hai fatto Insomma Sul cambiamento Di metodologia Della lotta Della lotta politica Del modo di far politica Statale Della Della l'italia Che era Diciamo Una compagnia aerea De quota Tutta un'altra serie Di appunto Di aumenti fiscali Sul prezzo del carburante Quindi Cioè Forse il mio È un giudizio Liquidatorio Volutamente liquidatorio Però mi pare Che di questo Ventennio Berlusconiano Si sia visto Ben poco Di Ben poco Di liberale Quasi nulla Di Liberista Insomma Come tu Come intravedi Il futuro Cioè Pensi a qualche Forma di Organizzazione Diversa Un soggetto Politico Liberale Conservatore Liberale Qual è il tuo Punto di vista Su questa Su questa Crisi Perché penso Che sia la Crisi più grave Sì Guarda Al di là Del fallimento Che è sotto Occhio di tutti Del governo Berlusconi E di questi anni Di promesse Infinite Io penso Che al solito Il problema Sia un problema Di comunicazione Berlusconi Ha sdoganato Certe Tematiche Liberali Nel 94 Come abbiamo avuto Modo di dire Non ha fatto Quella rivoluzione Liberale E l'ha mantenuta A parole Adesso Neanche più A parole Adesso Berlusconi Perde Le persone Cosa fanno Vanno 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 A rivotare A sinistra Io ieri Ero all'aeroporto A Firenze Vedo sit-in Di protesta Fuori Con Bandiere Del PD Bandiere Del VVF E bandiere Della falce E martello Cioè è riuscito Pure nel miracolo Non so se il VVF È un grande miracolo Italiano È un grande miracolo Pure questo Dopo averli fatti sparire Non so dove fossero finiti Fosse Li tutelava il VVF Stesso Rivedo bandiere rosse Con la falce E martello Inorgogliositi Forse Non so a che pro Dal referendum Ma insomma Qui questo cosa significa Significa che in questi vent'anni Non si è fatto Niente A livello Culturale Cioè Berlusconi Aveva Non solo Tutti i mezzi Economici Che sappiano Aveva anche Dei mezzi Mediatici Potentissimi Fra cui L'editoria La televisione Questi mezzi Non sono stati utilizzati Minimamente Per creare Quel substrato Culturale Che gli avrebbe permesso Senza ombra di dubbio Di Sì essere protagonista Per vent'anni Come lo è stato Della scena politica italiana Ma di essere ricordato Anche poi In futuro Come un grande statista Come una persona Che ha Che ha rivoluzionato Non solo Il modo Di fare politica Portando Timidamente Qualche americanizzazione Del modo Di comunicare La politica I toni della politica La battuta della politica Il linguaggio politico Ma anche Di avere creato Un substrato Culturale Tra le persone Che Adesso Insomma Queste Quelle tematiche Liberali Con cui Con Antonio Martino Avrebbe dovuto Scrivere Avrebbe dovuto Portare avanti Aveva scritto Il programma Del 94 Adesso Non sarebbero Relegate Ad alcuni Banda Giro per l'Italia Ma Probabilmente Pensiero di massa Potenziero di massa Mi senti Salvatore Salvatore Grazie a tutti Pagani Grazie a tutti. 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 Un processo di un processo di un processo di informazione che Berlusconi poteva fare benissimo. Grazie a tutti. 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 Salvatore a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.